Ispirazione quotidiana Pulisco la finestra della mia mente affinché diventi uno specchio che riflette l'ispirazione spirituale. Citazioni di oggi E mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, E vedrete, se io non vapro le cateratte del cielo e non riverso su di voi tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla. Malachia 3.10 Ispirazione di oggi Dovremmo credere che Dio è il partner invisibile nella nostra vita E afferrare che l'amore divino ci precede e ci prepara la strada. Dobbiamo lasciarci guidare Perché c'è qualcosa dentro di noi Al centro del nostro essere Che sa cosa dobbiamo fare E sa come dobbiamo farlo. Ascolta la presenza divina E permettile di dirigere il tuo cammino Ti verranno pensieri e idee E sarai portato a seguirli nella tua vita quotidiana Sarai spinto all'azione giusta Saprai come affrontare ogni situazione Con serena fiducia E con la piena convinzione che la divina intelligenza Ti sta guidando Intenzione di oggi C'è qualcosa che sta rendendo Ogni cosa nella mia vita Semplice, efficace e completa C'è qualcosa che regola ogni circostanza In modo che ne derivi il successo e la felicità C'è qualcosa in me Che va verso tutti coloro che incontro Con amore e fiducia Qualcosa che benedice tutto quello che tocco Qualcosa che porta pace Conforto e gioia nel mio mondo In ogni pensiero In ogni parola In ogni azione Sono sostenuto da un potere infinito E sono guidato dolcemente Verso un bene crescente Per me e per gli altri Per me e per gli altri Per me e per gli altri